ariete la giornata vi vede un po' sotto sopra nei rapporti interpersonali forse pretendete ragioni che non sempre avete momento controverso anche nelle questioni di lavoro che sono infastidite da ritardi inopportuni ma potete rifarvi con le vicende sentimentali vero riferimento positivo toro è un periodo benevolo che vi invita a vivere con più intensità la vita sociale ad essere intraprendenti nelle vostre richieste e in ambito lavorativo il confronto la comunicazione è l'anima di questi giorni che possono offrirvi una marcia in più e rendervi soddisfatti gemelli la luna nemica oggi vi disturba e può distorgere le percezioni meglio non farsi influenzare troppo e ragionare con più obiettività in questo periodo l'attenzione si concentra sulle faccende di cuore ma la vostra disponibilità attira molti consensi dovunque cancro una buona giornata apre i suoi orizzonti e rallegra l'umore con novità gradite con una bella disposizione d'animo che vi rende amabili e charlieri pieni di iniziative è un buon momento per organizzare spostamenti fare programmi per una vacanza per il futuro leone sono giorni piuttosto ordinari vi accompagna la benevolenza di venere in angolazione positiva che addolcisce il vostro quotidiano con una dose di autoindulgenza e inclinazione ai piaceri del buon vivere insieme all'intesa con le persone che amate vergine la luna oggi è in transito nel segno e illumina le emozioni suscitando uno stato d'animo festoso è un periodo di buone occasioni e di conferme che rendono più consapevoli le vostre scelte e motivazioni in ambito lavorativo c'è un incremento proficuo bilancia qualcosa non torna nei vostri conti le aspettative sul lavoro e in ambito economico sono distanti dalla realtà emergono rallentamenti e distorsioni che richiedono più impegno da parte vostra ma avete le carte in regola per raggiungere i vostri obiettivi scorpione è un cielo positivo il vostro ricco di impulsi dinamici che aprono la strada a numerose occasioni per migliorare la vostra posizione e lavorare su programmi che vi stanno a cuore favoriti i contatti le relazioni e la capacità di essere convincenti sagittario giornata sotto tono per voi con luna e venere in aspetto dissonante emotività e sentimenti sono un po confusi non vi regalano quelle soddisfazioni che cercate alcune conflittualità nei rapporti amorosi vi portano a valutare la sostanza della relazione capricorno la luna favorevole oggi alza il tono dell'umore in una fase che si rivela piuttosto noiosa scombinata voglia di pensare ad una vacanza e in sofferenza verso ciò che non segue la rotta prestabilita sono le caratteristiche del momento organizzatevi meglio acquario periodo positivo ma poco rilevante adatto a prendervi una sosta un po' di e rivolgere le vostre attenzioni al benessere la sfera sentimentale riceve una buona dose di appagamento che stimola l'intesa e vi sprona a conquiste interessanti se siete soli pesci la giornata vede la luna in aspetto di opposizione fare da guastafeste alle vostre percezioni nervosetti e polemici cercate di non infierire troppo nelle relazioni amorose che già vedono qualche incomprensione bene invece l'ambito lavorativo e la vivacità sociale buone stelle buone stelle buone stelle Grazie a tutti.